Ben, dobbiamo fermare la grange prima che sia troppo tardi Mi sto lavorando, cucina Occhio, abbiamo visite Un bell'ospite a sorpresa Non farlo più, Ben Tu che ne dici? Le diamo un caldo benvenuto? Caldo oppure freddo? Non vedo un tubo! Tranquillo, ci penso io Preferisci il ghiaccio nero? Reggi di forte! Ho avuto un'idea Incroyable! Ehi, signor Lagrange, ci chiedevamo se le andava di abbandonare la gara Si dice messier Lagrange e la risposta è no Ora comportatevi da bravi perdenti e lasciate perdere! Me l'aspettavo quella manovra! Ottimo! Finalmente un avversario come si deve! Quei due sciocchi, ormai non ho più bisogno di voi! Dici che è infuriato perché abbiamo lasciato passare quell'auto? Già, un po' infuriato! Ha distrutto tutte le auto, anche quelle dei suoi piloti! Ora siamo solo noi e lui! Ci incontriamo ancora! La nostra sortita è stata divertente, ma ormai la linea di arrivo mi aspetta! Sembri molto sicuro di te stesso! Vogliamo alzare la posta? Che stai facendo? Confidati! È una scommessa? E dimmi, si ne esco vittorioso, qual è il premio? Se vinci tu, avrai quest'auto! Ma se vinciamo noi, ti ritirerai dalle corse, per sempre! Bene! Ricordati le chiavi della mia nuova auto quando ci vedremo all'arrivo! Au revoir! Ok, Ben, fa mangiare la polvere a quel buffone! Oh, no! Oh, per favore! Oh, che peccato! Non sono neanche riuscito a parare! Andiamo, diventa verde! Non fa niente, Ben, abbiamo perso! L'officina di Comala ha chiuso! Ha funzionato? Dovrei trovare il suo manuale! Si torna in pista! Che cosa stai aspettando? Diamoci dentro! Eh, prego, cugina! Vediamo se la grange è più veloce di XLR8! Santi, il piano è cambiato! Tieniti forte! Cintura allacciata? Sì! Ah! O la va o la spacca! La grange all'orizzonte! Oh, non a quanto pare la possibilità di barare! Ben, è sorpresa in avvivo! Senza le tue fiammate lo perderemo! Allora dovrò accorciargli la corsa! Pensi che la gara finisca qui? Adesso, il mio Coupe de Grasse! Pronta alla spinta, Gwen? Sono pronta quando lo sei tu! Perché ci stai inseguendo? Sarà un missile a ricerca di calore! La grange è vicina! E va bene, signor missile! Questa è la tua fermata! A plus tardi! Ora l'officina è salva! Ma ci manca di fare solo una cosa! Preparati a mangiare la polvere! Ci vediamo all'arrivo! Ehi, voi aspettatevi! Ah, mi sono scelto un go-kart fasundo! Una volta un saggio mi disse qui non si tratta del go-kart, ma del pilota! Forse faceva meglio a stare zitto!